Ciano, mettete la dentiera che non te capisce Mohamed quando che te parli, dai! Ciano, non sai neanche lui quanti anni che ha, che ha costruito il capannone intorno a Ciano. E' pieno di acciacchi, è sordo da una rezza, orbo di un occhio, ma in maniera asimmetrica, per cui a destra quello che non vede, che sente, e a sinistra il contrario, se come a Tesla, radar e telecamere integrati, se confonde sui giorni, arriva urlando giovedì gnocchi, se è lunedì, però, pa' non sbagliarsi, graspa tutti i giorni, la fa lui in casa, con il liquido refrigerante del gruppo elettronico, ma non lo tengo qua per pietà, lo tengo che gli altri capannoni tentano di rubarmelo, perché qua in Poianistan i veci, se è sacri, se è una figura mitologica che si aggira nella valle delle tenebre padane, salutando le ombre nella nebbia, ma tutto omeni, centraline meteorologiche, e quei risponde perché qua anche gli autovelox gli fanno ciao, ciao. Romano, non che ti darissi un centesimo, e gira quei braghe, un tè di piso, la camicia senza un bottone, i capelli bianchi, che pare muffa sopra il stracchino, ma è un travestimento, è un travestimento, è come cosa, i ninja, come si chiama, Ulisse, quello che torna a casa, vestito da vecchio, ma dopo quando che serve, tra, si alza e te coppa con la freccia della saggezza, perché i veci, sa, voi altri li prendete per il culo i vostri veci, ma i veci conosce, i veci che ha vissuto, che ha visto, e adesso i vede tornare il passato, io l'ese, come se fosse il futuro, ne guardano gli altri, i vede le robe che chiamo da patire, ancora i ride, e i ride fanno gli altri, tutti quanti, c'è il sorriso da embriago, cosa te che faccia da mona, perché sorridi? E lui dice, cazzi vostri, ma non svela niente, perché non fa spoiler, non rovina la sorpresa, i veci, i veci che ha il Dureo, come Clint Eastwood, quei sì, bisogna stare attenti ai veci, che vedo che adesso non prendete per il culo cosa, come si chiama, l'americano, Bideng, perché cadà il baso sulla fronte alla Meloni, oh, polo vecchio rincoglionio, che cadà un baso, crede che sia la nipote della badante, deficienti, quello l'ha guardata e ha visto il futuro, ha visto che lei si è circondata della famiglia perché pensa che la famiglia la protegga, cognati, cugini, amichettisti, e invece lui ha visto che la famiglia ti tira so come una macina da mulino e non tacca il collo, c'è che è in Tenerio che ha un baso in fronte, ha detto, c'è la pastea prima che ti tira sotto, c'hanno, e Bideng è la stessa roba, Bideng è che deve essere anche da queste parti, Bideng, Cominto, no, c'è la stessa roba, i vai in giro, e tutti quanti che dice, corri casa, che te si vecio, te si rincoglionino, te spursi da naftalina e da liquido refrigerante, ma loro sa, loro c'è che ha laureato all'università della vita, che ha laureato in sopravvivenza, che ha visto roba che noi altri non avemmo idea, che ha vissuto roba che noi altri non avemmo idea, non sapevo neanche se vivemo metà dell'ora, i vecchi, sa, Bideng, sentiva male le lesioni e vinse il paiazzo arancione, io qua, che è un posto in Cappanonte, lo trovo sempre, c'hanno, cavate la dentiera che te stavi meglio prima, fammi una carità! Un grande applauso da Andrea Pennacchi!